Natale Natale significa anche presepe settecentesco che è un bene della città di proprietà della diocesi, mi corregga se sbaglio ma sicuramente un bene artistico che riguarda tutta la città anche credenti e non credenti diciamo così ho visto che c'è un day plan che prevede iniziative e altro intorno al presepe settecentesco ma sappiamo anche che le condizioni del tetto non sono le migliori che si possono avere che si ne deve occupare e cosa succederà se invece dovesse essere riaperto al pubblico senza nessuna manutenzione Innanzitutto abbiamo avuto un cambio di parroco il nuovo parroco ha fatto un grande lavoro dal punto di vista intanto della pulizia dei luoghi e del decoro dei luoghi e poi ha proposto questo bel cartellone di eventi che riporta l'attenzione sulla grotta insieme a un gruppo di volontari io ho fatto un sopralluogo insieme a lui perché per quanto la questione sia giuridicamente di competenza della cura credo che sia di competenza della città lui ha individuato una soluzione provvisoria per questo periodo natalizio però è una soluzione credo evidentemente tampone ecco perché noi come ente ci siamo anche messi a disposizione poi al di là delle questioni giuridiche con i nostri tecnici per poter dare una mano c'è stato qualche sopralluogo da questo punto di vista ecco noi attendiamo che la cura ci dica qual è il cronoprogramma siamo assolutamente disponibili in questo senso Per capire meglio, disponibile significa mettere a disposizione risorse e personale pubblico? Noi siamo disponibili a poter partecipare voglio dire anche sì con i nostri tecnici anche se c'è voglio dire un esborso che ovviamente non può essere una partecipazione totale perché il bene non è di nostra proprietà e quindi non abbiamo la possibilità giuridicamente di intervenire nelle risorse c'è una somma urgenza che è ferma a Palermo e quindi io comunque riterrei che da quel punto di vista è quello l'intervento principe lo dico intuitivamente però dico nell'attesa della somma urgenza c'è una urgenza che è quella insomma nei prossimi mesi di lavorarci quindi sì diciamo che noi siamo disponibili a collaborare anche in modo bipartisan certo se parliamo di ghiossi e sborso di denaro io l'ho detto al parroco insomma l'ho detto alla cura che noi non siamo nelle condizioni di poterlo fare sarebbe anche da capire poi con quali tempi considerato che già siamo a dicembre inoltrato guardi io non sono un tecnico quindi non so quale può essere il cronoprogramma di recupero di un tetto e quali sono poi i problemi reali certo io sono convinto che immediatamente dopo queste feste natalizie la chiamata è quella subito di fare il cronoprogramma dei lavori e metterli in pratica perché non so fino a che punto poi questo tipo di struttura può andare avanti è possibile che vada avanti altri vent'anni attenzione io tecnicamente non so dare un parere però diciamo che è buona cosa intervenire certamente sotto il profilo strutturale attenzione io